Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io sono Alex Alberio di Sarono Giovani. Pochi giorni fa abbiamo deciso di redigere una lettera per cercare di far capire e di trasmettere quali sono i sentimenti nei confronti della sicurezza di tutti i nostri coetanei, cioè dei giovani. Poco tempo fa, pochi giorni fa, c'è stato uno scippo nei confronti di una quindicenne, c'è stato un accoltellamento vicino alla stazione e dobbiamo cercare in tutti i modi di far diventare i giovani protagonisti e di far vedere il disagio dei giovani nei confronti della sicurezza. D'altronde non si può chiedere un atteggiamento razionale nei confronti di un sentimento irrazionale, quale la paura. Possiamo dire che la lettera ha avuto un buon riscontro anche sui giornali locali. Dobbiamo cercare anche di sgomberare la mente da quelle che sono le richieste che potrebbero essere più dirette, come la richiesta di maggior forze di polizia nella nostra città, in quanto soltanto nella sola Milano c'è una mancanza di mille militari dell'arma. Quindi dobbiamo cercare tutti noi saronnesi insieme di risolvere questo problema, chiedendo all'amministrazione cittadina per esempio un aumento delle ore di pattuglia dei nostri agenti di polizia locale, che negli ultimi tempi stanno svolgendo il loro lavoro con grande passione e con grandissima importanza. Voglio cogliere anche l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che tutti i giorni cercano di far diventare questa città sempre più vivibile nelle sue bellissime strade e nei suoi bellissimi parchi. Grazie mille.